Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noe, a tutti voi un cordiale saluto, apriamo con i motori perché la prossima settimana torna il campionato italiano rally con la 51esima edizione del rally dell'Elba, una corsa che pensate torna a far parte dello challenge tricolore dopo ben 25 anni. E c'è un presentatore d'eccezione per questa corsa, Paolo Andreucci. Tra un Targa Florio e un Elba si è concesso anche un vermentino, inteso come rally in terra e sulla terra di Sardegna. Paolo Andreucci non si ferma mai, anche perché sa, lui lo sa benissimo, che chi si ferma è perduto e lui per DNA e abitudine di vita a perdere non è mica tanto abituato, così sa che nulla va lasciato al caso. Ecco spiegata la sua partecipazione al rally dei Nuraghi e del vermentino di pochi giorni fa, è infatti sullo sterrato che negli ultimi due anni ha pagato dazio pesante agli avversari e stavolta vorrebbe non fosse così. Intanto però si va ancora sull'asfalto, quello del 51esimo rally dell'Isola d'Elba che dopo un quarto di secolo torna nel CIR. Corsa bella, difficile e affascinante che il popolare Ucci, futuro assicurato da opinionista, presenta così. Rally dell'Elba, quest'anno un grande rientro di questa gara storica che ha fatto comunque la storia dell'europeo e del campionato italiano, per cui tutta da vedere e tutta da seguire. Parte da Portoferraio venerdì 25 maggio alle 16.15 per disputare le prime 5 prove speciali, diciamo, del primo giorno. La gara è stata rivista per oltre il 60% del suo percorso, è stata inserita una nuova prova speciale a Portoazzurro Volterraio di circa 14 km. Da vedere per chi non si vuole spostare, la prova speciale dentro Portoferraio è una prova spettacolo di circa 2 km. In totale percorreremo 10 prove speciali. La caratteristica di questa gara è che ci sono tantissime curve perché il percorso non ti dà un attimo di respiro e il terreno è anche abbastanza viscido, per cui andremo dal livello del mare su fino all'altezza del Monte Perone e ci sarà anche magari qualche cambio sicuro di temperatura e magari anche qualche cambio meteo. A Portoferraio all'arrivo sabato alle 17.25. A Rally dell'Elba ci sarà anche tra i piloti lucchesi anche Christopher Lucchesi, il giovane pilota di Bagni di Luca che punta ad essere protagonista e cerca il poker di successi tra le vetture GT. Soprattutto Christopher punta a prendere punti pesanti anche per il campionato Tricolore Junior, due ruote motrici. Siamo all'Hockey, sabato sera ore 20.45. Si gioca Amatori Lodi-Forte dei Marmi, ovvero gara 3 della finale Scudetto. Si riparte con i giallorossi Lombardi avanti 2-0 nella serie e quindi con la ghiotta possibilità di fronte al proprio pubblico di vincere lo Scudetto per il secondo anno consecutivo. Toccherà alla Forte dei Marmi di Gigio Bresciani rinviare o addirittura cancellare la festa dell'Odi accorciando le distanze e portando la finale a gara 4 che si disputerebbe eventualmente martedì 22 maggio al Palaforte, eventuale bella, qualora il Forte dei Marmi da 0-2 riuscisse a rimontare, come tutti quanti auspichiamo, fino al 2-2 eventuale bella ancora all'Odi, sabato 26 maggio. E sempre sabato al Palatagliate alle ore 18 si gioca la sfida che vedrà opposte l'Alpo-Villa-Franca e l'Infinity-Vio-Faenza, parliamo di basket femminile A2. Si affrontano le vincenti dei play-off dei gironi nord e sud chi vincerà dovrà vedersela poi in gara secca da giocare sul parchè di casa contro la meccanica Vigarano uscita sconfitta nel play-out di serie A1. E ancora per il basket dopo aver mancato per un soffio le finali nazionali con le under 18 le Mura Spring centra l'obiettivo con l'Under 14 Gold che si presenteranno alla fase finale a Cagliari da campionesse toscane. Con la vittoria contro la polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno le giovani bianco-rosse hanno infatti ottenuto il titolo regionale con una gara di anticipo. Siamo al ciclismo, buone notizie per quanto riguarda la Michela Fanini di Patron Brunello che abbiamo riassunto nel servizio. Due successi e due secondi posti questo il bilancio delle atleti ucraine della Michela Fanini impegnate in una serie di corse nel proprio paese a farla da padrone in una gara a tappe che si è svolta sul Mar Nero nei pressi di Odessa è stato l'Echka Shekher 24 anni che ha ottenuto due vittorie una piazza d'onore e il gradino più alto nella speciale classifica basata sui punti raccolti in tutte le prove in programma. Nella stessa manifestazione è andata bene anche la campionessa ucraina Epvenia di Tosca che ha conquistato un secondo posto e diversi piazzamenti nella top 10. Oltre oceano si è fatta apprezzare anche la venezuelana Lilibet Chacon che ha sfiorato il podio finendo quarta nella prova a cronometro dei campionati panamericani che si sono svolti a San Juan in Argentina. La Michela Fanini agli ordini del direttore sportivo Mirko Puglioli sarà impegnata domenica prossima a Bolzano nel Gran Premio Fiera poi di nuovo all'estero per alcune corse in Svizzera. Sul fronte organizzativo è lo stesso Brunello Fanini a comunicare la chiusura delle iscrizioni per il prossimo giro della Toscana internazionale dal 7 al 9 settembre uno stop arrivato con largo anticipo a conferma dell'importanza della manifestazione e della volontà dei team di partecipare. A meno di cambiamenti dell'ultima ora al prossimo Toscana prenderanno parte 25 squadre con nove rappresentative nazionali con nomi di spicco del panorama ciclistico mondiale. Sempre per il ciclismo buone notizie per la conceria Zabri Fanini la prima riguarda un rinforzo dal Brasile infatti è arrivata Clemilda Fernandez Silva una delle più forti atlete sudamericane la seconda legata la partecipazione al circuito Winston-Salm Cycling Classic una serie di corse che si svolgeranno negli Stati Uniti in North Carolina a fine maggio la squadra partirà il 24 intanto domenica il gruppo dei patron Manuel al completo sarà impegnata Bolzano al Gran Premio Fiera una gara open. Siamo all'atletica gioco di squadra e medaglia d'argento un risultato meritato quello del trio Giannini Marsili-Lionetti categoria cadetti che hanno portato la Virtus Lucca sulla seconda posizione quindi alla medaglia d'argento ai campionati regionali di staffette di Sesto Fiorentino nella specialità 3 per 1000 metri sotto l'ottima conduzione tecnica di Enrico Carelli che vediamo appunto nella foto con i tre ragazzi da notare tra gli altri risultati anche la volata trionfale di Dario Fazzi negli 800 metri che ha migliorato il proprio personale di 23 secondi abbondanti portando a termine la prova in 2 minuti e 82 centesimi nella consueta Rossini corre buone prestazioni per gli atleti dei Lucca Marathon Andrea Marsili settimo assoluto e primo di categorie Mauro Polinelli 24esimo e quarto di categoria in evidenza anche Marco Simanti Paolo Cogigli e Flavia Cristianini in classifica anche Giorgio Puccetti che ha partecipato senza forzare il ritmo domenica a Camaiore nella corsa storica dei Frati su un percorso molto impegnativo gli atleti del Baluardo hanno ben figurato con Alessandro Ristori quinto assoluto primo di categoria e Flavia Cristianini quinta assoluta e seconda di categoria bene in questo caso anche Mauro Polinelli Paolo Cogigli e Roberto Di Muro un encomio particolare inoltre va gli staccanovisti Flavia Paolo e Mauro che in 12 ore hanno corso entrambe le gare ottimi risultati quindi per la squadra che dopo aver smaltito le fatiche per organizzare la Lucca si è gettata a capofitto nelle gare competitive toscane e non chiudiamo con la Pallavolo dopo le soddisfazioni che sono venute dalla Pallavolo lucchese con la Nottoline e la Pantera a fare l'impresa stavolta l'Unione Borgo-Amozzano nel campionato parliamo di Pallavolo amatoriale che appunto ha vinto il campionato regionale e adesso si prepara a disputare il campionato nazionale pensate che questa squadra viene da due titoli consecutivi adesso le ragazze borghigiane difenderanno il titolo nelle prossime settimane a Rimini dove tenteranno un clamoroso tris o triplete che dir si voglia in bocca al lupo alle ragazze di Borgo-Amozzano bene è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi vi ringrazio per averci seguito fin qui dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza ed ultima parte di Borgo-Amozzano